La settimana prossima è la settimana del cuore, iniziativa in tutta Italia e anche a Novara, dottor Bongo. Certo, a Novara, come in tutta Italia, sotto il patrolato della Presidenza della Repubblica, la nostra associazione di cui mi onoro di far parte, l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, stimola i vari centri cardiologici a promuovere delle iniziative per la prevenzione cardiovascolare. Il motivo è sempre lo stesso. Le malattie cardiovascolari sono ancora, tutt'oggi, al primo posto della mortalità e sono causa veramente di grandi problemi sociali. Certamente, senza volermi sconoscere il ruolo e l'importanza sulla mortalità di altre malattie, non bisogna abbassare la guardia sul cuore e sulle malattie cardiovascolari. Per fare questo, la medicina ha fatto dei grandissimi progressi e credo che siamo arrivati a un punto dove i miglioramenti possono essere solo minimi. Abbiamo già una mortalità bassissima quando si arriva in ospedale, del 4-5%. Abbiamo delle tecnologie stupende, meravigliose. Il problema è che, prima di arrivare in ospedale, per esempio, c'è un grosso problema, ancora molte persone non fanno in tempo arrivare in ospedale. In quest'ottica, anche le morti improvvise nel mondo dello sport? La morte improvvise dello sport è una di quelle cose che non si sono ancora riuscite ad affrontare in modo decente. Uno, perché probabilmente non si riesce ancora a capire bene la causa e filtrarle adeguatamente. Due, perché ci vuole un'organizzazione ancora più attenta, ancora più capillare della rianimazione cardiopolmonare che deve avvenire immediatamente e ci deve essere un'organizzazione. Faccio un esempio. Se scoppia un incendio e ci sono gli estintori, ma nessuno sa come si usa l'estintore, nemmeno le prime avvisaglie si riesce a porre rimedio. Se invece c'è tutta un'organizzazione per cui chiunque sa usare l'estintore, sa quelle tre cose che si devono fare per affrontare l'incendio, è probabile che si possano evitare grandi danni. Quindi noi cerchiamo di stimolare le persone e cerchiamo di ottenere dei finanziamenti con una modestissima adorazione di un euro sul numero tipo Teleton che verrà diffuso in tutte le nostre conferenze, sui giornali e dappertutto in modo da poter ottenere un risultato in quest'ottica.